Buongiorno a tutti, dichiariamo ufficialmente aperto e poi lo farà meglio di me l'artista Maristina Pinucci, il primo padiglione della Biennale, primo perché probabilmente siano anche gli altri, di questo nuovo Stato, il 192esimo se non ricordo male, lo Stato chiamato Garbel Patch e il suo primo padiglione è qui a Caposcari e tra un secondo enteremo per dichiararlo ufficialmente aperto. Maristina. Uno Stato ufficialmente, anche se simbolicamente riconosciuto dall'UNESCO, non poteva che non avere un padiglione a Venezia durante la Biennale ed eccolo qua e lo stiamo inaugurando. Grazie a tutti di essere in servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.